Saroni Sergio nasce a Torino il 24 novembre 1934. Frequenta l'Accademia Albertina e l'ambiente artistico torinese. Sostenuto dalla stima di Luigi Carluccio e dall'appoggio della Galleria La Bussola di Torino, partecipa ad importanti premi nazionali, ottenendo riconoscimenti che lo collocano nella ristretta cerchia delle giovani promesse. Arcangeli, Valsecchi e Carluccio ne fanno uno dei campioni del cosiddetto informale naturalistico, che si afferma nell'arco della seconda metà degli anni 50 in area padana. La scelta di un figurativismo attuale lo mette nella necessità di rinnovare il linguaggio. In tal senso, assume parte importante la ricerca grafica. Parallelamente si dedica all'insegnamento, prima al liceo artistico poi all'Accademia Albertina, dove subentra a Enrico Paolucci sulla prima cattedra di pittura. Dell'Accademia diventa direttore, accompagnando con precise responsabilità il mutamento di rotta che tocca l'istituzione a livello nazionale. In particolare coinvolge nei cosiddetti corsi speciali alcuni artisti che hanno segnato un'epoca. Saroni Sergio, si spense il 6 novembre 1991. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!